Lo sai che ti meriti davvero, davvero tutte queste coccole? Ciao, 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 grazie di essere qui, 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 con me oggi, oggi oggi facciamo un video esperimento per diversi motivi, diversi fattori, quindi più che mai ho assolutamente bisogno di un vostro parere, di un vostro commento sotto al video intanto comincio dicendo che questo video è stato completamente ispirato da Edbox ASMR ricordatemi di lasciare il link al suo canale qui sotto in particolare un suo video mi è piaciuto tutta ma ti volevo ricrearlo un pochino a modo mio ma è assolutamente straespirato al suo perché è un video esperimento tra motivi uno, questo microfono non l'ho mai usato su questo canale, incrociamo le dita che vi piacciono numero due, sto usando per ora la fotocamera interna dell'iPhone 16 Pro che potrebbe performare meglio ma adesso c'è molto poca luce, quindi direi che sono soddisfatta e terzo per la tipologia un individuo in sé proprio per tutte queste cose messe insieme oggi voglio coccolarti un po' il viso nella prima parte utilizzerò la fotocamera interna per il semplice fatto che ho bisogno di questo suono del vetro, quindi il dumping deve essere qui sopra per la seconda parte invece sarà la fotocamera esterna, quindi proveremo entrambe oggi voglio stare con te, farti rilassare, farti sparire tutti i pensieri che hai nella testa e farti compagnia, un po' da supporto psicologico se ne hai bisogno sono qui per te, a coccolarti il viso, ok? per te, a continuare ciò che rende ancora più cosi questo video per me è il fatto che ho sonnissimo, sono le 11 di sera e in realtà io amo girare i video in questo momento della giornata quando anche sono un po' stanca perchè secondo me sono ancora più rilassante e io sono ancora più rilassata ovviamente sono dati questi tipi di video semplici un po' stai ok 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 Grazie. Grazie. Chiudi gli occhi se vuoi, quindi questo suono di tapping sul tuo viso leggero e rilassante, come se fosse pioggia che cade sul tetto della macchina o sull'ombrello. Grazie. 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 l'autocamera mi sta piacendo un casino ma andiamo avanti perché qui il tuo viso secondo me farà altri suoni particolari a presto 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 a presto